sono al mio supermercato mi dicono che la mia tessera punti è arrivata a 2000 quando arrivo a 3000 ho diritto a un premio fedeltà guardo nel catalogo c'è anche un fucile giocattolo m17 mi domando se esiste un supermercato pacifista se c'è cambio supermercato le guerre si vendono e si comprano ci sono offerte tutto compreso uomini materiali consiglieri militari basta prenotare con un po di anticipo esistono anche le guerre in saldo forniture di vecchie armamenti prezzi stracciati si paga in contanti ma anche con il vecchio baratto tu organizzi una guerra per me io ti cedo in cambio le miniere di re salomone tu mi elimini gli avversari e io ti cedo un porto sull'oceano tutti contenti tutti in guerra come per le automobili le guerre hanno bisogno di aggiornamenti di contenuto estetici la ricerca militare il più importante contenitore di innovazioni cosa offre oggi droni aeromobili a pilotaggio remoto per trasporto esplosivi costano meno dei missili e vanno molto anche anche in scatola di montaggio una cosa è certa i droni non hanno antagonisti domani in cielo non ci saranno più rondini a domani